Sulla strada provinciale. Un asino è stato frustato a morte, il suo cuore scoppiato di fatica e stramazzato a terra sulla strada provinciale. È morto con gli occhi aperti spalancati di incredulità. Chi si occuperà di una carcassa di un asinello di due anni colpito a morte dalla cattiveria dell'uomo. Commento. Che uccide gli animali dimostra di appartenere alla fascia delle incarnazioni istintive, le incarnazioni umane che succedono immediatamente a quelle animali. Infatti gli animali uccidono gli altri animali.